che stiamo arrivando non mi piace aspettare qui per sempre mi piace questa parte di parco posso raccontare tutte le caratteristiche quanto più l'abbiamo avuto c'è un bel po' c'è un'altra mappa questa non l'avevo vista Blackwell non è così grande ma è sicuramente un labyrinth ok Blackwell non è così grande vediamo se riesco a fare la foto allo scogliattolo adesso scogliattolo non ci sei più oh mortaggio sì un attimo non ci sta lo scogliattolo qua oh non sono riuscito Zachary fermate niente non c'è ci ho provato a ma ma no niente non ce la faccio aspetta forse posso warn ok avvertiamo lei se ti insisti Max ok devo prendere ad altro senso ok ok figurati ci sei andata vicino va bene facciamo una foto perché mi sa che era la la camera sua vediamo se ora ci parla no lo scogliattolo non ci sta totem è sempre là va bene andiamo vittoria ciao puttano spero che ti sia divertita con la con la foto è diciamo l'ultima che ti lascio passare va bene no da già sta ma ce la sta e ma che tecca foto bravo provo la vattene ciao ciao tranquilla spero almeno che non abbia fatto qualche casino grosso tu prima eh lo so no no che rewind uno con certe azioni ci deve pure convivere no ecco lo scogliattolo infame sì bravi visto si lo so che lui sta là in fondo però ok macchina uguale morte bicicletta con la carta igienica non so è il nuovo tipo di catena missing person guarda come cazzo si è messo cioè non soltanto sta sul coso handicappato si è messo pure mamma mia di chi è sto coso è tutti i poster capisco di chi è questo sarebbe da riportarlo comunque odio queste persone sì cane dici vediamo no guarda di no però ricordiamoci ci sta un cane eh sì c'è qualcosa di nuovo che non abbiamo visto sul miss no niente di nuovo Warren aspetta un secondo si si arrivo arrivo sorella non capisco che è stata gelosa cioè poi sono giovani sorry about Zachary I won't bother you proviamo al massimo questa la rewindo però normalmente forse direi che non ti disturbo quando uno mi dice così sorry or you had to find out about Zachary that way or anyway better sooner than later now that skank Victoria won't be laughing behind my back anymore have you talked to Zach yet mister badass football hero is such a chicken shit he said he sexted Victoria as a ha ha I think Warren wants your attention si 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 ok dai arrivo Warren tanto so che essendo tu uomo aspetterai tanto noi aspettiamo sempre aspetta si volevo prima vedere la macchina si 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 sevente i cerotoni sui finestrini oh vabbè sarà tipo la prima macchina niente abbraccio ci vuole portare tipo al tramonto romantico Past Martino c'è un a 60 Biraz tu ti sei bu E parecchio Non ti preoccupare Ah, dovevo andare in camera mia Eh, figurati, tipo Titanic No, lo so che l'ha messo online, l'ho visto Ah, ah Ah, ah 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 Quindi devi utilizzare un computer per fotografare. Ovviamente. Mi piace di un'altra foto con alcuni grafici. Questo potrebbe non succedere. Ti senti. Quindi, hai avuto la possibilità di vedere la movie booty di mio flash drive? Sì, grazie. Hai un'altra cosa cool da qua, da Akira a Twilight Zone. Che sembra aproposare oggi. Io mi considero un pop cultural pirate connoisseur. E questo sembra meglio che un thief. Ha 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 ha. Assurda che guardate Cannibal Holocaust. Ho visto. Sono più distrubbata da tutti quei movie vampire emos in là. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Sensitive. Ouch. That sounds awful the way you say it. Faster pussycat kill kill. No, not at all. Not at all. Sensitive is good. Unless you're a pushover. Ha ha. You have hip taste and a quick mind. Thanks for noticing, Max. Flirt, flirt, flirt. If I was lucky. Speaking of hip and fast, We should cruise out in my car to do an actual movie this week. Dici? Forse con lui mi voglio confidare. I need to talk to somebody. Just to get it out of my system. Dr. Warren Graham is in the house. I won't even prescribe you any meds. Eh, perché non puoi. Everything. For reals, Warren. This is between you and me. Not social media. Don't insult me. Uh. Max, go on. I had incredibly bizarro experience in Mr. Jefferson's class today. I mean, life-changing. Have you ever had a dream so real? It was like a movie? Max Caulfield, right? You're one of the person's photo groupies? I'm one of his students. What the fuck ever? I know you like to take pictures. Especially when you're hiding out in the bathroom. Ecco. You're best to tell me what you told the principal. Now. Answer me, bitch. Se ci ammazza non possiamo più riavvolgere. Di che stai parlando? Di che stai parlando? Di che stai parlando? I know you're new here. But don't even play stupid with me. I'm not new. I've lived here for years. Then you should know that Prescott's own this shithole. Quindi? You don't have to worry about me. You worry about yourself. Do not analyze me. I pay people for that. Do not worry about yourself. Funzionano male però quelli che paghi. I could call the police. Do it. The Prescott's own the pig here. Get away from me, dude. Oh! Hey! Leave him alone. Nobody tells me what to do. Not Aaron, not the principal. Or that whore in the bathroom. Che è il tipo del furgone che mi sta sul cazzo? Ma che è questa? No, non posso lasciare Warren così, dai. Chloe, tu sei la mia amica, ma mi sei stava parecchio sul cazzo per cui hai messo il furgoncino. Mano, Nathan's first-girls is a messo. And dangerous. This day never ends. Oh, and thanks, Chloe. After five years you're still Max Caulfield. E ti ho anche salvato la vita Oh, e grazie Chloe, è perfetto che ci vedo oggi Sì, è stato questo tipo di giorno, quindi cosa vuoi con te? Ho spero che non ciò dopo oggi, quindi come sai Nathan? È solo un altro arcadia, tuo amico mi ha fatto davvero un pochino per te. Warren? Sì, lo lo so che ho davvero molto. Sei non il solo in debtor, e sei già causato problemi. Ho pensato che sarebbe quieto qui. Mi sento molto strano di essere tornata. Quindi credo che Seattle ha sbagliato? No, mi sento come una città reale per gli artisti, grande e brillante. Molto per prendere foto. Sì, deve essere difficile tornare a una città come Arcadia. Non dopo aver visto tu. Sì, ragazza. Tu vieni per la Academy Blackwell. Solo per Mark Jefferson. Era una fotografia abbastanza famosa negli anni 90. Ho sempre amato il suo lavoro. A chi non può fare, insegnate. Siamo felice che hai trovato una buona risposta di tornare. Non credo che mi sono piaciuto di guardarti? No. Tu eri piaciuto di aspettare 5 anni senza un ringrazio o anche un telefono. Scusate. Sento che cose erano difficili sui quando mi sono andato. Ma come lo sai? Non ero anche qui. Non ho chiesto dei miei bambini di rinforzare, specificamente per farci perdere, Chloe. Hai stato a Blackwell per quasi un mese senza lasciarmi sapere. Non ho detto. Ho solo chiesto di sottolineare prima e non essere così un cliché giusto. Tuttavia avrei contattato te. Spero che non ti usi queste scuole scuole su Mr. Jefferson. Non usi le su me, Max. No, no. Rotta. Oh, ma tu sei seriol? Wow, non ho ho sentito di questo in un tempo. Non tutto cambia. ma che mia camera ha officciato una scuola la mia stepdouche ha un pocino di strumenti magari puoi in mio posto ho bisogno di molto specifico di strumenti mia stepdad ha un pocino di strumento di garage e in realtà è un strumento di strumento di strumento benvenuti a Max grazie vieni in, non sei schifo l'uomo ancora sembra... bello home shit home questa tetta di fuori fede la mia sala sembra un po' differente da l'ultima volta che hai visto è bello, almeno possiamo tranquillare questa è un'inizio della mia scuola la mia stepdouche per assicurare di questo io prendo la porta mettere una musica mentre medicare e fuma allora vediamo qui che abbiamo ecco, figurate mi manchi vorrei che tu fossi qui Rache ah, Chloe ehm tipo fumettino Chloe e Max she is a killer ah 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 vabbè chiaramente qui che è tipo già pronta a pannasse vediamo se c'è casca in te pare Bo tu avaisia spettacolo scusami hai ho shall Mi abbiamo rotto sto coso, mi spiace. Ci si nascondeva, ma chiaramente. Altezza? E' sempre più altra da me. Abbiamo fatto il mio papà guardare il suo spazio. Chloe ha totalmente cambiato il suo stile. Non ho riconosciuto la mia. Non c'è nulla in questo spazio. Ehi, dimmi quello. Scusate. Non ero cercato di essere nusica. Ovviamente, lei era un buon amico. Sto mettendo in grado. Noi. C'è Rachel Amber. Le posti di persona che non mi perdono. che le mette lei eh 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 lei ha detto che ha incontrato qualcuno che ha cambiato la vita e poi e tu non hai mai sentito qualcosa da lei? il mio padre, tu e Rachel è morto potete mettere una musica ora anche se temo per il copyright vediamo eh che avvia un po' che cosa butta o o non ha soldi o non ha soldi un po' meno un po' meno qua eh dai le droga proprio e dove stava lo stereo? ah qua eppi ma ah io non mi piace io non mi piace è troppo pretentosa eh hey quella tv era in la sala è l'ipi ma l'ipi ma Grazie a tutti. No, Max, questo non è un prodotto. Come ho detto, guarda il garage. Non so se sono psicofarmaci. Scusate, signori, mi sento costretto a riabbassare. Vediamo se la lascio proprio bassa, 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 magari non... Neanche si sente proprio così. Cambia poco. Ah, sì, scusate, lo so, però... Purtroppo su YouTube ci sono un po' di problemi con le musiche. Non ci possiamo pesare. Questo è sicuramente la make-up Joyce. Chloe non usare prodotti animali. Beh, spegniamo l'interruttore prima di andarcene, però... C'è qualcosa che si deve fare all'interruttore spento? Cambia qualcosa? Non credo. Ok. Beh, non soltanto noi due. Questa deve essere la camera... Eh, infatti. Mano, oggi sono nozata. Sì. Riesco a farmi gli affari miei. Più forte di me. Oh. Joyce ha un piccolo schieno di William. Il nuovo figlio non può essere così un douche. Eh, continuiamo a farci gli affari loro. Beh, oddio. Proprio così carino e tenero, non è? Non mi hai mai visto i douche tech, però... Act, react, or die. Un guide di survival del 21st century. Mmm. Apocalypse self-help. Oh, uccello. Oh, s**t. Proprio cosa. Credo che potrei fare qualcosa per salvare. Eh, speriamo. Intanto apriamo la finestra. Oh, s**t. Eh, sì, sì, ho capito. Credo che potrei fare qualcosa per salvare. Eh, cosa possiamo fare? Joyce ancora funziona nel diner. È il suo suono un coppia? Piazza Chloe. Ecco perché gli fa il pezzo. E lo chiamava tipo che era sceriffo. Oh, oh. I prezzi sono tardi sulle bille. Mmm. Joyce sembra molto felice. Mmm. Chloe, stepdad, potrebbe non essere un douche bag, dopo tutto. Fammi spegnere l'interruttore. Non sprechiamo la corrente. Sì, comunque ci sta quell'uccelino là dietro. Non abbiamo ancora capito come potremmo dargli una mano. Eh no. Ah, necklace. No, sempre. Beh, vedi che ci tiene, insomma, comunque. Questo l'avevo aperto, penso di sì, ma... Eh, sì, sì. Niente, non me lo fa schippare. Piazza Chloe. Va bene. Vediamo, magari c'è qualcosa nel garage che ci possa servire per aiutare l'uccellino. In qui non c'era nient'altro. Questa finestra qua si poteva solo guardare o si poteva anche aprire. No. Ok. Andiamo a piano di sotto. Wrong way. Proprio ti invita a entrare. Fammi sentire a leverò prima di andare giù. Vediamo se ci può dire qualcosa dell'uccellino. Lo è. Abbiamo un problema. Quale step-assi guarda le strade nel garage? Credo che puoi trovare qualcosa per rinforzare la tua camera. Ok, non te ne prega niente. Perfetto. Andiamo giù. Down the stairs. Posta, tra un'altra bolletta. Ormai è monotematica la questione. Allora. No, non è un'altra bolletta. Ok. Siamo molto veloci a digitare, sti giovani. Mamma mia, l'antenna è messa proprio a merd. Fammi la spegnere perché... C'è stato un modo per mettere l'antenna? No. Uno di quelli vecchi, mi sembrava uno di quelli proprio... Vabbè. Fammi accendere la luce, qui stiamo al buio. Ci vediamo una mazza. Mi piace anche andare a Parisi. A questo punto, ci saranno fortunati di arrivare a Portland. Ehi, ricordo quella stagione. Chloe e io abbiamo tosse la tua bianca, e abbiamo tosse sempre, ma non è mai usato. Siamo così bruciate. Te credo. Se io prendi questa foto, la bianca sarebbe andata sulle a tua parte. Animalistia. Come on, aprile il cuore. Hold on, e non sono un cuore. Provele. Ti fai prima, Max. Ricord. Noi, era la tua idea, Chloe. Cosa, dimmi quella bottiglia. E' il vino. E' il vino tutto. Cosa faremo adesso? I miei bianci sono arrivati. Coverla. Mmm. Ok Penso non ci sia nient'altro Comunque hanno una bella tv Nonostante il fatto che abbiano Bollette da pagare A non finire Aspetta al garage Ci andiamo ma con calma Andiamo prima se c'è qualcos'altro Per l'uccellino E' ottobre Che è morto qua Il cane Ah il gatto Brutta storia Vabbè Sarà una cosa di almeno 5 anni Si attorno Si attorno Ma arrivati Far from me Thanks a lot dude Dude he would totally come with me I need a bodyguard for our adventures I would be like Lara Croft Except real That would be majorly cool Totally We'd have cars and boats and planes all over for instant escape And no adults could tell us what to do Count me in What would you do While I was bodyguarding you Maybe take pictures of our adventures I would love to be a photographer As if I ever could be What are you talking about Max you are a photographer Your pictures could be in a museum Some day they will I believe in you E' stata una bella amicizia Comunque E' un peccato che l'abbiamo andata a puttane Poi senza sentirci più Per così tanto tempo E' stato un po' uno spreco da parte nostra E forse le cose sarebbero andate diversamente Bottiglie di birra Pallone Ma l'uccelletto Da qua si vede? Ha qualche finestra E' forse sta laggiù Niente Da qua non si passa Devo andare dentro Ehm da qua Ehm non è che siamo chiusi fuori vero? In Oregon però Ok Un po' spenta la luce qua Ah Sempraccesa Voi vallà I love that they have the same old answering machine And there's a message Chloe If you're listening Pete was cruising home off duty And told me he saw you near that garbage dump Now I'm worried Told you Orchard 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 A parte il fatto dell'order Perché è un poliziotto Credo che comunque ci tenga anche Quello che loro chiamano padrino Scatole Cioè non me ne avevo riconosciuto Del tipo che gli abbiamo fatto il pezzo noi Ah Di bene in meglio Di bene in meglio Chloe's stepdad è un veterano e un guardia sicurezza Ok Ok sì ecco perché quello è tutto così fissato con la sicurezza là dentro Pistole Non mi interessa Qui non mi pare ci sia niente Qui ci sono i tools Ok Vediamo Un altro televisore Ecco perché Vuole mettere pure a scuola Brutta storia C'è la mappa Fa vedere un po' Che già ci ha installato le camere Vedi Placement of cameras Non so se era il progetto che voleva provare o se già l'ha fatto senza dirla a nessuno Comunque Una situazione molto negativa Non vorrei che magari un freak che vuole vedere la gente nuda e basta alla fine C'è una password No non ci posso fare niente Sì ma sarebbe il caso di trovare la password invece che secondo me questo è un tipo parecchio strano E se riuscissimo a capirci qualcosa in più sarebbe molto meglio Eh scopriamolo E vabbè Eh credo che ha conseguenze Che pippe che siamo Kate Marsh C'è una cosa Ok Questa è diventata totalmente weird Ah ecco la tipa che stava rimproverando Quella che viene sempre presa in giro Guarda come la stava seguendo 13 e 7 Ah Questo è veramente strambo Questo è tipo per l'Avocalisse Eh questo c'è il libro per l'Avocalisse Questo è uno di quelli l'americani fissati per sta roba Guarda il caro muscle car Chloe's stepdad must be a gearhead Mi piace molto poco Molto 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 poco Cioè magari farà stare pure felice la madre di Chloe però Sì ho aperto la porta ma non ho trovato niente Cacciatore Non mi pare che abbiamo trovato niente Magari se arriviamo un attimo qua Ci potremmo la password per il computer Ehm Ehm Sì ho scelto la piazza Decisioni Decisioni Già l'ho aperto Già so cosa succede Ehm Niente Niente Chissà dove potrebbe stare la password Forse in camera sua posso tornare Forse Boh Questo non l'abbiamo controllato Mmm Nel foglio qua Niente Non siamo riusciti Non siamo riusciti Né a trovare niente Per Ok Questa è la lista da spesa Non penso ci sia una password Sul frigorifero Ma Valeva la pena di controllare Vorrei tornare Come non in to go there E che Che faccio No Ma le cose sono due O troviamo qualcosa Per fare effettivamente Per ripararci la macchina fotografica O Troviamo qualcosa Per aiutare l'uccellino Mi immagino Di essermi perso Qualcosa di fondamentale Non c'è nessun altro messaggio Registrato Io sarei potuto salire Però per capire la password O per parlare Con qualcuno Di qualcosa Ok Rifacciamo un attimo Una ricontrollatina Della parte Iniziale qua Niente Questo è Niente Niente Non voglio Non voglio guardare Queste foto Di nuovo Perché David Ha Non ho Password Come Ciò che mi aiuterebbe A cercare Tutti No Infatti Non sto A cercare Tutti Aspetta Quello Non l'avevo Visto Ne so Oh Precision Screwdriver Ah Eccolo Eccolo Non posso A cercare Non 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 Si Stable Fanno Gatti Tanto Un'altra cosa Che accade Ok Ok Eh Mano Spero di aver fatto That before They fell Non volevo utilizzare Uno di questi Per prenderlo Ma non Tanto se muo Dio indietro Gli rimani indietro Aspetta Non ci posso fare Nient'altro Infatti Ci vorrei mettere Qualcosa Non da là Sì No Volevo prendere Qualche marca Ingegno Solo le foto Mi fa vedere Me ne frega niente Sì Ho capito C'era nient'altro Non il cibo Credo No Non credo che Questa roba Ci possa aiutare Non mi ricordo C'era una casa In giardino Che potevamo usare No Non credo che la tomba Di segno Ci possa aiutare Che ci possiamo Risedere No Mi sto perdendo In un bicchiere D'acqua Sicuramente Tipico Se riguardiamo Una cosa Per i viaggi Dirà Ah sì Voglio fare i viaggi Va bene Voglio andare anche io A Parigi Ci fai risalire adesso? No No Allora Qui non è Luke Non ci interessa Ah Cosa aveva detto? Avrei dovuto farlo prima Che idiota Bastava riavvolgere il tempo Sono queste cose molto banali Che non mi vengono in mente Perché non è una dinamica A cui sono abituato Ah no L'ho fatto troppo Ci stanno ancora? Oh C'è caduto No Eh devo mandare indietro di più Allora Prima di mandare indietro quella Ok Ora sì Mamma mia Ero sicuro Che sta facendo qualcosa In modo molto stupido Va bene Ale Ora torna tutto Non so perché Perché per me ormai Era una dinamica Praticamente collegata Soltanto ai dialoghi Ok E non penso che adesso Vi può stressare Ho le strutture Siamo tornati a destra Prima di Chloe Sembra proprio così Presa dalla nostra presenza